Ciao a tutti, io sono TTV di Corea, oggi l'episodio è Diva Italiana C'è più di 40 anni, episodio 7. È Sonia Gray, Sonia Gray, nome di arte di Sonia Colone. Sonia Gray è nata il 30 agosto 1968 a Lio, Milano. Lei è artista, è attrice, attrice, episodio della televisione, ma mi piace guardarlo. Non mi sono mai stancato o guardato spesso. Molto grazie, amici. Non mi sono mai stancato, non mi sono mai stancato. Non mi sono mai stancato, non mi sono mai stancato. Grazie.